Voce delle Chiese, notizie e appuntamenti dal mondo delle Chiese Evangeliche. Un'isola di legalità per un quartiere, per una città liberi dalle mafie. Questo è il titolo di una serata che si svolgerà venerdì, venerdì 28 giugno, alla Chiesa Metodista di Via Porro Lambertenghi 28 a Milano, organizzata proprio dalla Chiesa Metodista, non da sola però, anzi adesso ci facciamo bene a spiegare come è nata, qual è l'idea che porta alla nascita di questo evento, quali sono gli enti che collaboreranno e abbiamo con noi la pastora Sofì Langenech, pastora appunto della Chiesa Metodista di Milano. Buongiorno Sofì intanto, benvenuta su Radio Beckett. Buongiorno. Ciao, piacere di averti qui. Allora, come nasce quest'idea, questa serata, su un tema che sappiamo è un tema caro comunque alle nostre Chiese Evangeliche da sempre? Allora, nasce da una situazione di cronaca e cioè dal fatto che il 15 aprile scorso il mercato coperto di Piazzale Lagosta, che è un mercato di proprietà del comune dato in gestione a diverse società, sono state sequestrate quattro società che lo gestivano e quindi sono stati chiusi diversi negozi e sono stati arrestati 14 persone con accusa di favoreggiamento e associazione mafiosa. Di stampo ondranghetista. Ora, questo è un fatto di cronaca che non ci sconvolge più di tanto. Noi sappiamo che da molti anni, da un punto di vista finanziario, la città di Milano è sotto influenze dell'illegalità e della criminalità organizzata. Però quello che ci ha molto interrogati come Consiglio di Chiesa della Chiesa Metodista di Milano è proprio cosa possiamo fare noi. Per dire che non ci sta bene questa situazione, per dire che noi come cittadini e cittadine ci aspettiamo qualcosa di diverso, non soltanto dalle istituzioni ma anche proprio dagli altri cittadini e dalle altre cittadine. Nell'indifferenza di questi due mesi abbiamo pensato di organizzare un momento in cui informarci e riflettere. E quindi abbiamo invitato alcuni esponenti dell'antimafia, non soltanto il garante per il Comune di Milano, Davide Gentili che fa parte della Commissione Antimafia del Comune, ma anche la coordinatrice della DIA. Perché riteniamo che quando si parla di antimafia è bene anche sentire la voce degli esperti e farci dire, farci insegnare anche cosa nel nostro piccolo, nelle nostre vite quotidiane possiamo fare per metterci un po' di traverso a quello che è il quotidiano vivere in un mondo che, perché è un mondo fatto di capitalismo, è fatto di guadagni, è anche un mondo a volte corrotto. Cosa possiamo fare senza diventare dei supereroi? Ecco, questo è un po' quello che cerchiamo di scoprire in questa serata e anche di trovare dei cittadini e delle cittadine che possano essere interessate a questo tema. Sì, senza diventare dei supereroi mi viene anche da dire con degli strumenti che possono essere dati proprio da chi, come giustamente dicevi tu, lavora quotidianamente con queste tematiche. che magari ci sono delle possibilità, dei margini di azione che ognuno e ognuna di noi in modo responsabile, in modo anche attento, può portare avanti senza magari stravolgere appunto la propria quotidianità. Però questo non lo sappiamo ed è bello, mi piace molto questa idea che avete avuto di invitare persone che invece possono magari insegnarli e condividerli. Sì, l'idea è anche che a questa serata possano partecipare alcuni rappresentanti che abbiamo contattato di un comitato di un quartiere vicino al nostro, non di isola, di un comitato di libera e poi anche ci possa essere una rappresentanza di che cosa possiamo fare culturalmente contro la mafia e contro le mafie che è quello di informarci e leggere. e quindi per questo ci sarà anche un banchetto libri, diciamo, curato dalla nostra libreria claudiana. Certo, sì. No, no, poi ti lascio concludere. Dicevo, avete creato una piccola rete in un mondo che comunque già fa rete intorno a questo tema, a questo argomento, perché è chiaro che come singoli e singole a volte ci sentiamo un po' inadatti a pensare ad un contrasto, invece in un contesto di rete, di associazioni, di chiese in questo caso che si prendono anche la responsabilità di riflettere su queste tematiche di attualità e di cronaca, ci si sente un po' più protetti? Ci si sente meno soli. Allora, nella nostra società e in particolare io parto sempre dal quartiere perché John Wesley diceva il mondo è la mia parrocchia, allora se noi usciamo dalla nostra zona di comfort, della comunità, che è già una comunità internazionale, noi il mondo che incontriamo, il primo mondo che incontriamo è quello del quartiere. Questo quartiere è un quartiere che negli ultimi 15 anni ha visto una crescita esponenziale da un punto di vista economico e di benessere, con un cambiamento radicale delle persone che ci vivono e anche delle persone che frequentano il quartiere. È un quartiere cosiddetto della movida dove la sera si esce a bere, ma è anche un quartiere dove di giorno vivono tante persone in stato di bisogno. E quindi in questo strano quartiere per noi è stato importante costruire una rete che costruiamo da più di 20 anni, potremmo dire da quando la chiesa c'è e la chiesa metodista è qui da 51 anni. E quindi in questo quartiere abbiamo già delle reti di supporto che sono tramite l'associazione genitori delle scuole, c'è un comitato di cittadini e cittadine per il quartiere Isola, c'è chiaramente il rapporto ecumenico con la parrocchia, che sono in realtà due parrocchie che sono state unite recentemente. Insomma c'è un lavoro di costruzione di una rete sociale perché in questo luogo, in questo quartiere dentro la città di Milano ci possa essere anche ancora una dimensione di relazioni umane e di conoscenze reciproche, cosa che non è da dare per scontato in una megalopoli o in una zona che ha cambiato tantissimo i suoi connotati in pochi anni. Noi siamo il quartiere che sta sotto il bosco verticale per chi non è di Milano e quindi siamo un quartiere tra due stazioni ferroviarie dove c'è un grande passaggio di persone e di giorno c'è veramente tantissima gente che lavora qua e la notte c'è la movida. Dopodiché però ci sono anche i residenti, ci sono i cittadini e le cittadine. Ed è per loro che abbiamo pensato a un momento di riflessione che ci permetta di aprire anche uno sguardo un po' più ampio su che cosa noi intendiamo con legalità e con città sicura da non intendersi come con il binomio di decoro e sicurezza di cui sentiamo parlare molto spesso per le nostre realtà cittadine. Decoro e sicurezza qui sono dei temi stra utilizzati, invece noi vogliamo parlare di legalità e responsabilità civile, personale dei cittadini e delle cittadine. Quindi vedremo un po' cosa viene fuori. certo anche rispetto a magari a qualche intervento, a qualche momento di confronto proprio con le persone che parteciperanno a questa serata. Sì, ci sarà anche la presenza della Presidente del Municipio 9, quindi della circoscrizione che riguarda il nostro quartiere e anche dell'assessore alla sicurezza del Comune di Milano. Noi siamo molto onorati di essere stati anche presi sul serio e interpellati perché non ci dimentichiamo mai di essere una chiesa di minoranza ma sappiamo e siamo consapevoli di essere una minoranza che non sta mai zitta e quindi in qualche modo che fa sempre sentire la sua voce. E ci fa piacere che questa volta è stato accolto questo invito a partecipare, ci sarà un saluto istituzionale, niente di più e anche per lasciare lo spazio ai cittadini, alle cittadine tutte di poter anche interagire con gli ospiti invitati. Bene, allora io ricordo l'appuntamento, magari qualcuno ci sta ascoltando da quelle zone o qualcuno sarà in zona venerdì, sappiate che ci sarà questa iniziativa, questa serata a un'isola di legalità per un quartiere, per una città liberi dalle mafie alla chiesa metodista in via Porro Lambertenghi 28 a Milano. Grazie, grazie Sofie Langenek per essere stata con noi, buon lavoro a te, un saluto a tutta la comunità, alla chiesa metodista di Milano e alla prossima. Ciao, buon lavoro. Grazie, ciao. Per segnalarci appuntamenti, eventi o notizie scrivete a diretta-rbe.it